Stitch ama gli acquisti fumettosi ma bentornati ragazzi sono di nuovo le 14 e di nuovo domenica e immancabili gli acquisti fumettosi ragazzi benvenuti a tutti i nuovi iscritti siamo praticamente lo sto toccando il traguardo lo sto troccando ragazzi iscrivetevi perché siamo in road to 7000 ragazzi siamo in road to 7000 mancano uno picciolino di iscritti quindi benvenuti benvenuti a tutti i nuovi iscritti ragazzi non vi sempre fosse perso il tre chiacchiere con Moreno Burattini ieri ragazzi una cosa quando vedrete un'ora e quaranta non vi spaventate perché non me ne accorgerete nemmeno è stato un fuoco di mitraglia è stato un vulcano in eruzione e non ha parlato solo di Zagor ha parlato di Zagor di Tex della Bonelli ma ha parlato degli ultimi trent'anni del fumetto italiano veramente una puntata da non perdere ragazzi andatela a recuperare un big ma ne arriveranno altri settimana sto cercando di mantenere la programmazione regolare questa settimana perché ho un problema niente di grave ma un problema in famiglia con mia mamma insomma eccetera eccetera devo organizzare la settimana starò fuori un paio di giorni quindi sto cercando di portarmi avanti affinché la programmazione rimanga se dovesse saltare qualcosa sappiate che se è saltato un video è perché non ce l'ho fatta ma dovrei farcela allora puntata regolare sapete ci sono delle puntate che sono boh c'era il mondo questa è una puntata regolare ma sapete che ogni puntata ogni puntata anche quella più semplice regolare con le uscite della settimana io uno o due chicche ve le porto sempre uno o due chicche per incuriosirvi per stuzzicarvi ve le porto sempre e questa settimana ne abbiamo ben due di chicche allora la cominciamo subito cominciamo una me la sparo subito e una all'ultima una ci apro e una ci chiudo vi voglio solo ricordare che qui sotto trovate tutti i link e tutti i social al mio del mio canale e in più trovate anche il link per portare un po di magia di 8 bit a casa vostra allora cominciamo subito con la chicca la prima delle due chicche perché con questo unboxing amazzonoso vi faccio vedere una cosa che ho visto ragazzi allora io do sempre i crediti cioè se vedo una cosa su un altro canale o da un altro youtuber o su instagram cerco sempre di dare i crediti è passato un po di tempo io non mi ricordo dove dove l'ho visto e da chi ho visto la recensione di questi volumi perché la disegnatrice l'autrice si chiama pampania e questo è an invitation from a crab e ragazzi adesso ve lo faccio vedere perché quando ho visto i disegni il dentro come è realizzato è veramente è veramente un'opera particolare adesso ve la faccio vedere ed eccolo qui ragazzi vi faccio vedere perché è una cosa particolarissima in quanto praticamente ah no scusate mi sa che questo non si no ok giusto è così perché ci sono ci sono questi disegni praticamente la bambina è stilizzata ma poi gli sfondi di questo di questo anni di questo manga sono estremamente dettagliati quindi creano delle atmosfere particolarissime guardate quindi lei praticamente a parte la trama che è molto molto particolare adesso ve la leggo ma praticamente era questa bambina che però ha insomma molto particolare un mix molto molto particolare di di disegno di non lo so ma è intrigato da morire l'ho visto presentato da qualcuno e non ho resistito una volta mi è capitato che un granchio attirasse la mia attenzione i granchi usano abilmente zampe e che le per spostarsi sul terreno a una velocità sorprendente questo rende difficile catturarli ma considerando il loro aspetto particolare l'intenso sapore della loro carne apprezzata dai gourmet e infine il loro valore di mercato vale assolutamente la pena di impegnarsi nell'inseguimento questa ragazzina insegue questo granchio nella città guardate vedete guardate gli sfondi come sono lei accennata così ma gli sfondi sono dettagliatissimi insomma questa autrice ne ho sentito parlare molto bene mi intrigava e insomma niente l'ho preso ragazzi spero di avervi incuriosito e adesso abbiamo il 3442 di topolino con l'altra parte delle carte di blasco pisapia quindi andiamo ad aprirlo andiamo a prendere le carte metterle nella custodia e chiudere il mazzo perché credo che si chiuda con due uscite eccoci qua allora andiamo ad aprire prima di tutto andiamo ad aprire prima di tutto le carte se ci riesco sempre se ci riesco ragazzi perché che voglio dire a fare cioè sto cellophane è imperforabile cioè ci fanno i giubbotti antiproiettili che ci fanno col cellophane le forze speciali li usano allora vediamo di riuscire ad aprirle ok dovrei esserci riuscito guala mamma mia è che allora eccolo qua il topo lo vediamo in tutto il suo splendore bastoni spade proprio classiche 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 molto 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 belle andiamo ad aprire il cofanetto e ad inserirle all'interno si c'è una manualità veramente oggi una giornatina veramente frizzante ok quindi il mazzo delle carte dovrebbe essere completato dopo di che non fatica senza acquisti fomettosi qui che c'è tabella segnapunti delle carte la che carina pure la tabella segnapunti e illustrazioni in etiche di blasco pesa via la prima parte delle carte esclusiva è già in edicola e lo sappiamo quindi queste possiamo buttare andiamo a dare un'occhiata la copertina è di corrado mastantuono eccola qui molto 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 bella lo so potrei guardare nel futuro per sapere se e quando riuscirò a impossessarmi della numero uno ma così mi rovinerei la suspense devo dire che non tutte le settimane azzeccatissima però capisco anche inventarsi una scenetta tutte le settimane sia una cosa da incubo soggetto di roberto cagnore marco ponti donald soffritti ai disegni ai disegni e abbiamo amelia e la numero uno del numero due eccola qui bellissimi disegni ma anche i colori e io continuo a battermi affinché i coloristi vengano citati vengano citati in quel perché guardate qui c'è un lavoro di colorazione non indifferente quindi che vengano citati i coloristi eccolo qua fine del primo episodio poi abbiamo paperin pigafetta oltre i confini del mondo capitolo 2 fuoco soggetto e sceneggiatura pietro bizzemelo disegno e supervisione colore paolo mottura e guardate che roba mottura ragazzi mannaggia la miseria i'm a fan i'm a fan i'm an incredible fan no guardate questa fine del secondo capitolo guardate la tavola della fine del secondo capitolo mannaggia la miseria ok le carte le abbiamo già viste e poi abbiamo grosso guai a paperopoli secondo episodio gli dà un'idea di alex bertani soggetto e sceneggiatura alex bertani marco gervasio giuseppe facciotto ai disegni ecco qua ecco qua molto carina questa storia poi abbiamo calisota social media e tabete l'esclusivo evento inclusivo soggetto giorgio simeoni e alessandro sisti sceneggiatura di alessandro sisti disegni di federico franzò una storia più mani una storia più mani se la colla la piantasse di insozzarmi il numero di topolino io riuscirei anche magari a sfogliarlo molto molto chiara questa molta storia questa storia pippo il ricordo sfuggente soggetto e sceneggiatura di roberto moscato disegni di graziano barbaro di graziano barbaro eccolo qua carini disegni anche i colori eccetera eccetera qui si è incollato belli 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 sì mi piace piace anche questa questa griglia sua mi piace mi piace e poi dovremmo avere l'ultima storia con paverino paperotto e uno chef a quattro soggetto e sceneggiatura valentina camerini disegni di giulia lomurno quindi una storia tutta un team tutto femminile molto molto carini disegni molto carini ok qui altre pubblicità diamo solo un'occhiata a cosa ci aspetta la settimana prossima che cos'è ah questo è il portato polini disegnato da pollo mottura mannaggia la miseria prendere solo perché disegnato da mottura mannaggia bellissima anche la cobertiva del prossimo e tutte le altre grandissime storie che ci aspettano la prossima settimana chiudiamo con insuperabile paperoga di gabrile mazzoleni e roberta migueli e poi abbiamo la quinta uscita delle strisce dell'anastatica delle strisce di tex che contiene appunto la quinta e la penultima parte della storia scritta da moreno burattini disegnata da rodolfo d'orti quindi abbiamo parlato anche di questo nel tre chiacchiere di ieri con burattini e poi le altre strisce che continueranno eccoci qui a un altro appuntamento con il cellophane perché il cellophane questo è il mio nemico lo trovate in tutte le fumetterie nelle migliori fumetterie a gennaio scritto da me e disegnato da satana ok questa è la quinta di sei questa è la quinta di sei con i bellissimi disegni di rodolfo d'orti un artista incredibile un artista un pittore internazionale ragazzi trovate il tre chiacchiere con rodolfo d'orti sul canale e poi abbiamo la numero 9 la numero 10 delle strisce allora spostiamo le un attimo qui diamo un pochino più di campo alla situazione e andiamo a mettere la striscia nuova la penultima di quelle inedite qui ok e poi andiamo a sistemare altre due strisce qui dietro ecco qua ecco qua una no sbagliato questa ragazzi scusate quindi mettiamo la 9 qui eccola qui e poi mettiamo la 10 la 10 qua eccoli qua eccoli qua bellini bellini che si stanno componendo e poi ci sono quelle inedite con lo spirito dell'acqua abbiamo il numero 33 numero 33 di classic zagor ragazzi profumato e ragazzi le origini del mito un'occhiata che la diamo sempre al classic zagor perché perché la storia del fumetto italiano la storia dal bonelli di nolitta e ferri abbiamo queste prime storie appunto di zagor eccolo qua con il suo cico per gli splendidi disegni di ferri attenti al canna attenti ai bambini bellissimo bellissimo mi intriga moltissimo la il magazine volete sapere perché mi intriga questo magazine che sta per uscire che esce il 25 novembre beh andatevi a sentire il tre chiacchiere con moreno burattini perché ci sono degli artisti all'interno e delle cose all'interno che valgono assolutamente la pena anche se voi non siete degli zagoriani il prossimo numero sarà il numero 34 gli adoratori del sole con questa bellissima copertina tutta la verità abbiamo il 381 di martin mister ma quanto è guarda di colori quanto è bella questa copertina eccolo qui martin mister nuovo disegni di alfredo orlandi la copertina appunto di giancarlo alessandrini e eccolo qui mainardi orlandi andiamo a dargli un'occhiata molto pulito il disegno molto chiaro eccolo qua e poi i soliti approfondimenti consueti a fine a fine numero e alfredo castelli e massimo bonfatti boris appunto la parodia il prossimo mese ci sarà una storia ovviamente natalizia perché vedete qualcuno ha rubato il natale e bisognerà scoprire che cosa altra bellissima copertina morgan losti re delle mosche è il quinto numero delle scream novels bellissima anche questa copertina ragazzi bella bella davvero ed eccolo un nuovo numero delle scream novels questa volta abbiamo i disegni di nicolo assirelli sempre chiaverotti ovviamente soggetto e sceneggiatura diamo un'occhiata a questi disegni eccoli qua mi sta piacendo questa serie delle scream novels non mi dispiace come atmosfera come anche qui disegni molto chiari molto bello 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 il prossimo sarà la paziente 71 e sarà ridicola dal 9 di disembre le storie cult arriva al numero 109 e abbiamo coppia d'assi ragazzi perché abbiamo già luigi bonelli alla storia e il trio la sgs ai disegni e quindi bonelli sgs sicuramente i disegni sono clamorosi l'unica cosa sono un po piccole le vignette guardate sono un po piccole le vignette non so se era una serie più lunghe quindi per farla entrare in un formato da da bonellide hanno dovuto mettere 44 serie invece che che tre e quindi le vignette sono un po piccole ragazzi certo chi leggi manga è anche abituato però effettivamente sono un po piccole i disegni ovviamente sgs sono strepidosi belli 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 il prossimo sarà giudas di ennio missaglia e vladimiro missaglia per i protagonisti del fumetto abbiamo la dodicesima uscita da parte di cosmo editoriale cosmo del grandissimo braccio di ferro mamma mia che bella questa edizione dovevi poter rileggere in un'edizione moderna nuova ben rilegata le vecchie storie di braccio di ferro e vediamoli queste storie che contengono il che contiene il numero 12 disegno di alessandro dossi luigi sangalli 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 dossi questi sono disegnatori americani si di segno pure di segno rispetto a 125 125 quanto piace il tratto che comunque quando lo disegna sega eccolo qua è inconfondibile inconfondibile grande 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 bella 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 braccio di ferro tanta tanta roba e no non c'è l'antemia del prossimo numero che ma ci saranno il prossimo numero si braccio di ferro si ci sarà era già uscito un anno fa il numero uno adesso è uscito il numero due delle storie dei racconti del berling della serie appunto samuel stern e diamogli un'occhiata a questi racconti del berling ne abbiamo diversi storia edita di fila d'oro e disegni di federico perrone convertina di fernando proietti eccolo qua beh tanto tanto orrore per tutti è tanto tanto orrore per tutti se tanta 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 roba queste sono le due copertine del del numero in edicola e questa è la copertina del prossimo numero quello di dicembre e poi abbiamo il numero 45 di naruto color in questo splendido viola e bello dentro giallo sfogliato disegni eccezionali per i nuovi iscritti per chi fosse nuovo sul canale magari non ha mai visto questa edizione di naruto color un'occhiatina che la diamo uguale bello 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 il prossimo sarà tutto arancione e sarà in edicola e fra settimana ragazzi e poi abbiamo il numero 144 di capi d'amici ci avviciniamo sempre di più alla conclusione di questa enorme immensa epopea e questo è le tre sorelle due e il mistero egizio uno ci avviciniamo a grande falcate verso la fine qui abbiamo alberto arato birago balsano per la realizzazione di questo numero si vede che bignotti aveva mollato verso la fine e quindi questi ultimi numeri sono di altri autori e non mi sembrano nemmeno malaccio dai non mi sembrano nemmeno malaccio dai carini belli disegni dai belli 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 bellissima anche la prossima copertina del numero 145 quindi con il 16 novembre con il seme dell'odi abbiamo il 74esimo numero del comandante Mark eccolo qua anche qui tanta tanta roba ragazzi ok Mark bellissima copertina sempre bellissima le tavole di Mark in questo formato a colori se vi state chiedendo dove è finito l'uscita delle Marvel Legends scusate delle leggende DC il mio edicolante non l'ha ricevuta la sta rimediando mi arriva lunedì quindi la prossima settimana troverete due numeri delle leggende DC quindi niente è saltato e manca in questa edizione il romanzo alla fine e l'anteprima del mistero di Fairville che sarà il numero 75 mister no abbiamo il numero 55 Rabonelli appena annunciato che arriveremo al 100 qui se andiamo fino al 60 ma appena annunciato che arriveranno a 100 con mia enorme gioia perché questa versione a colori grande formato di mister no è veramente veramente bella questa bellissima copertina molto iccocchiana abbiamo i disegni di bignotti eccolo qui non ce l'abbiamo su Capitan Mickey ma lo ritroviamo sul mister no è grande mister no è grande anche i bignotti che bestia guardate che tavolo è la stessa storia si la stessa storia questo non è cambiata la storia la stessa storia no cambia la storia scusate bignotti ed è marraffa ai disegni da metà in poi eccolo qua infatti mi sembrava un tratto molto particolare un mister no molto molto strano però delle tavole splendide ragazzi guardate guardate che splendore belle 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 grande guardate che roba splendide dettagliatissime il prossimo sarà uranio e sarà il numero 56 e adesso ragazzi veniamo all'altra chicca sono stato un paio di settimane lo prendo lo prendo lo prendo lo prendo ma poi secondo me va preso ed è il nuovo inedito di Asterix ed è Asterix e il grifone ovviamente non abbiamo più gli autori classici ovviamente ma è di Jean-Yves Ferry i testi e Didier Conrad i disegni e però Asterix ragazzi è sempre Asterix Asterix va preso assolutamente e adesso sono sincero da quando l'ho preso non vedevo l'ora di aprirlo guardate che bello anche il cartone dietro guardate che carino molto molto carino andiamo ad aprire questo inedito di di Asterix niente non è una vita una lotta contro il cielo una vita a lottare contro il cielo fan una vita a lottare contro il cielo fan una vita a lottare contro il cielo fan ok ce l'abbiamo fatta eh porca miseria madonna ne ho sudato bellissima la copertina andiamo a darvi un occhiale questo me lo leggo proprio stasera non vedo l'ora di leggerlo vediamo come sono i disegni beh ragazzi disegni tanta roba porca miseria ragazzi i disegni tanta roba Asterix dovrebbe essere divertente insomma adesso vediamo come è stato scritto questo ma i disegni sono clamorosi ragazzi mamma mia disegni bellissimi ne vale assolutamente la pena ragazzi almeno per i disegni se la storia è pure all'altezza è un capolavoro questo questo numero bello 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 ragazzi bello 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 il numero 39 e questa è un'altra cosa che prima o poi dovrò recuperare e quindi ragazzi spero che vi siano divertiti spero che vi sia piaciuta anche questa puntata non ci sarà il one more thing perché c'erano un paio di cose mi devono arrivare ma non mi sono ancora arrivata e quindi probabilmente sarà una puntata più ricca la prossima settimana e niente condividete mettete mi piace iscrivetevi fate tutto ciò che il vostro cuore desidera ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel questo è 8bit e siete sul canale più nerd di youtube grazie a tutti